A temi di paura questo pomeriggio assondrio lungo il corso del fiume Hadda, all'altezza dell'area giochi situata sul sentiero Valtellina, poco distante dallo skate park, una donna di 75 anni è scivolata in acqua durante una passeggiata ed è stata tratta in salvo da un passante che subito dopo averla notata si è tuffato nelle gelide acque del fiume. Un intervento decisivo e provvidenziale grazie al quale è stato da subito scongiurato il rischio che la malcapitata venisse trascinata via dalle correnti. Deve essere partita da qua, scivolata un po' prima e arrivata un po' più giù fino a lì, però io è quello che ho sentito. Sul luogo sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco del capoluogo che hanno portato a termine il recupero della donna ed un'ambulanza di Areu assieme ai carabinieri. Il fatto attorno alle 14.45. Non era da sola, c'era lì dopo ho visto una signora con capotto, forse era una conoscente, non lo so, c'era lì, altri c'erano lì. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Sondrio, le sue condizioni non destano fortunatamente preoccupazioni.